Buonasera a tutti, siamo qui con alcuni ragazzi di Terza Media che questa sera ci aiuteranno a pregare insieme la prediera dell'Angelus che vogliamo ogni giorno, ogni sera di questa settimana in preparazione alla Madonna, alla festa del Carmine, pregare insieme, proprio per preparare il nostro cuore. Ci mettiamo allora in preghiera della recita insieme dell'Angelus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. E il verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, la madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua caruce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo allora Matteo, animatori, ringraziamo i ragazzi di Terza Media che ci hanno aiutato a vivere bene insieme questa preghiera. Buona serata a tutti.